Questa, signori, possiamo definirla una bella sorpresa nella vita di Asia Argento. A quanto pare, dopo un lungo periodo trascorso da sola, il suo cuore potrebbe finalmente essere tornato a battere per qualcuno. In pratica l'attrice si è mostrata sui social network in compagnia di quel che sembrerebbe essere il nuovo fidanzato e noi ne vogliamo sapere di più. Ovviamente la rete si è infiammata in due secondi, infatti ci sono un sacco di commenti riportati sotto il post della donna che sono stati tanti e sono tutti concordi nell'essere diciamo felici da parte sua di lei, no? Tornata nuovamente finalmente a sorridere. Asia avrebbe dunque un nuovo fidanzato. Circa due mesi fa aveva raccontato, aveva detto, ho sviluppato presto un istinto di sopravvivenza nato quando mia madre mi picchiava e ho capito che avrei dovuto proteggermi in qualche modo come un animaletto perso nella città perché venivo cacciata e buttata in mezzo alla strada soltanto nove anni. Avevo già smesso in passato per due anni e mezzo con gli alcolisti anonimi. Ho accettato l'invito di Maria Amelia Monti, mia vicina di casa, a fare meditazione buddista con lei che in qualche modo sarebbe servita a qualcosa e ho ricominciato a ridere. Tornando a noi, nonostante fino a poco tempo fa Asia avesse confermato di non avere nessuna relazione sentimentale in corso, adesso qualcosa sembra essere improvvisamente cambiato. Colui che sarebbe proprio il nuovo fidanzato della figlia di Dario Argento è apparso sul profilo Instagram proprio di lei, quindi insomma si è fatto vedere in maniera diciamo ufficiale. E da parte di lei non ci sono stati dei commenti, ma si è soffermata in particolare sull'augurare buone vacanze a tutti coloro che la seguono sui social e presumibilmente agli italiani e non solo in generale. Il sito Ultime Notizie Flash è convinto in pratica che si tratti proprio del nuovo fidanzato di Asia, ma non è stato possibile, come avrete capito, scoprire quale sia il suo nome, quale sia il cognome, quale sia in pratica. Si era vociferato nel recente passato che lei avesse una love story con un attore originario degli Stati Uniti. Ma bisognerà vedere. Indubbiamente quest'uomo l'ha resa nuovamente molto contenta, visto che il suo sorriso è spontaneo e molto bello da vedere. Ora non ci resta che aspettare qualche annuncio che sia un po' più ufficiale e verificare insieme l'identità del presunto partner. Vi ricordo che Asia Argento ha avuto una storia d'amore con Morgan. Sì, anche se è naufragata comunque c'è stata una figlia, Anna Lu. La relazione è stata dal 2000 al 2006 con questa figlia avvenuta nel 2001. Poi non è finita perché ha avuto un altro figlio, Nicola, e questo dalla relazione con il regista Michele Civetta. Nel 2017, quindi molto più verso i giorni nostri, ha conosciuto Anthony Bourdain, famosissimo chef originario della Francia, ma un anno dopo lei è rimasta scioccata perché lui fu trovato senza vita in una stanza di hotel. Questo è sicuramente un qualcosa che gli è rimasto molto in mente, però raga, la vita va avanti, lei ce l'ha fortunatamente dimostrato e siamo sicuri che torneremo presto a parlare di lei con qualcun altro. Questo è tutto per questa notizia, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!